Ciao ragazzi, questa volta i disagi del coronavirus ci hanno permesso di scoprire questa escursione che andremo a fare partendo dalla nostra città. Oggi ci facciamo una bella camminata partendo da zona cinquina attraversando la campagna romana in un percorso che arriva fino alla Nomentana. È la prima volta che facciamo questa cosa, ma sono sicuro che ci riserverà un sacco di sorprese. Un monastero? Grazie a tutti. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Allora stiamo arrivando a Santiago, siamo partiti da Roncisvalle, ci aspettiamo a Santiago ragazzi Buon cammino Buon cammino Buon cammino Buon cammino Buon cammino Loro sono Don Giuseppe e Matteo e non hanno esitato un istante nel salutarci e nell'offrirci ristoro Nonostante le problematiche legate alla distanza covid Grazie Don Giuseppe! Beh comunque noi la faccia da pellegrini e sperduti ce l'avevamo La passione di Don Giuseppe oltre Gesù è il giardinaggio e la botanica per questo ci fa visitare anche il suo orto barra Roseto Beh la nostra avventura è finita e devo dire che di sorprese ce ne sono state Paesaggi bellissimi, posti inaspettati e persone ospitali, tutto questo praticamente senza uscire da Roma Beh non male no? Alla prossima ragazzi!